Il 1 agosto ci saranno le celebrazioni ufficiali per il centenario della Ferrovia Sangritana. Oggi c'è stata la conferenza stampa nella sede di Via Dalmazio. Il Presidente Di Nardo ha illustrato tante iniziative che culmineranno con l'intitolazione della piazza al fondatore dell'ingegnere dell'arciprete. Però ci sono tante altre importanti iniziative infrastrutturali che interesseranno soprattutto la Val di Sangro ma anche il ripristino di vecchie tratte. Il 1 agosto per noi rappresenta una data importantissima, rappresenta l'inaugurazione del primo tratto da Lanciano verso San Vito e abbiamo ritenuto opportuno e giusto soprattutto ricordarla nel suo centenario con l'intitolazione della piazzetta antistante alla vecchia stazione storica all'ingegnere dell'arciprete che fu un po' l'antesignano, il vero progettista di questa infrastruttura che consigliò l'ingegnere Besenzanica. E se Besenzanica riuscì a realizzare questa infrastruttura fino a collegarla a Castel di Sangro per collegarla poi da Castel di Sangro a Napoli con il terreno io credo che l'iniziativa di ripristinare almeno fino al lago di Bomba all'interno di questo centenario e quindi i primi 20 chilometri che da Archi tornano verso Bomba nella nostra vecchia infrastruttura dopo 12 anni di completo fermo io credo che stiano a segnalare, a testimoniare l'importanza che questa amministrazione ha nei confronti del proprio entroterra non solo ma anche nei confronti di una utile possibilità di tornare fino a Castel di Sangro e di conseguenza riconnettersi fino alla famosa Sulmona Carpinone di cui anche in altre occasioni abbiamo avuto modo di parlare. In sostanza la possibilità di promuovere un territorio interno spesso dichiaratamente abbandonato per farle rivivere anche attraverso le sue bellezze naturali anche con quanto fino a dieci anni fa fino a quando il Trino della Valle portava circa 30.000 viaggiatori in solo tre mesi far rivivere anche quelle che erano le strutture nate per l'appunto di ospitalità e di ricezione nate appunto in considerazione di questo mezzo. Ma la novità delle novità è rappresentata certamente dal fatto che quella infrastruttura oggi, contrariamente a 12 anni fa, è interconnessa alla linea di RFI a Torino di Sangro. Vale a dire nel prossimo futuro, io sottolineo e spero dico immediato, ma comunque entro l'anno prossimo potremo anche qui fare delle proposte di servizio che vadano dalle prossime Marche alle Puglie per portarli qui da noi verso appunto Bomba e magari l'anno prossimo verso Villa Santa Maria per meglio far conoscere il nostro territorio. Ma non è solo questo, ovviamente quella infrastruttura sarà utilizzabile non più solo ed esclusivamente per il trasporto merci che attualmente continuiamo a fare per Sebel e per le altre industrie localizzate a Saletti ma anche per i passeggeri. Vale a dire potremo per il prossimo anno proporre delle corse per sostituire le cosiddette corse operaie che fino ad oggi vengono svolte attraverso trasporto pubblico su gomma, una proposta di trasporto su ferro, vale a dire l'eliminazione anche qui di una serie di inutili inquinamenti prodotti sia in termini di mezzi che di emissione. In tema di riorganizzazione del trasporto pubblico mi sembra lei accennava al fatto di dividere le divisioni ferro e gomma. C'è una legge regionale che ad oggi disegna due aziende distinte sia per gomma di trasporto se per gomma che per ferro la nostra proposta già dal dicembre scorso ma che è stata ultimamente anche sottoposta unitamente all'assessore quindi ma anche con l'avallo da parte dei sindacati quella di individuare un'azienda unica questa volta. Questo non vuol dire fermare l'iter procedurale legislativo che è in corso ma sostanzialmente verificare la possibilità di integrare l'attuale proposta di legge comprendendo anche il trasporto su ferro. Questo consentirebbe di avere una proposta unica, un'intermodalità, una sostanziale governance unica per l'integrazione non solo di servizi ma anche di offerta tariffaria e quindi sostanzialmente una opportunità in più di proposta di servizi che sia economicamente vantaggiosa per gli utenti.